Musica Sorpreso a spacciare vicino al centro commerciale di Villa Rosa, viene arrestato, ma una volta tornato in libertà, riprende l'attività illegale, supportato in alcuni casi anche dalla compagna. Nei confronti di entrambi, il GIP di Teramo ha emesso un provvedimento di divieto di dimora in tutto il territorio della provincia. La storia inizia lo scorso agosto, quando durante un controllo in Borghese, i carabinieri di Martinsicuro, insospettiti dall'andirivieni di giovani tossicodipendenti nell'area del centro commerciale Grillo di Villa Rosa, avevano sorpreso l'uomo mentre cedeva dosi di eroina a un giovane. Processato con rito direttissimo, il pusher aveva patteggiato la pena ed era stato rimesso in libertà, salvo poi ricominciare a spacciare appena tornato a piede libero. I sospetti dei militari avevano fatto scattare una seconda indagine, così grazie ad una serie di testimonianze raccolte tra i giovani clienti, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo continuava a spacciare cocaina ed eroina, aiutato anche dalla sua compagna. In un caso avrebbe persino minacciato con una pistola un ragazzo del posto, che dopo aver acquistato droga a credito, stava tardando nel pagare la somma pattuita. Alla fine per lo spacciatore seriale e la sua fidanzata è arrivato il pugno duro del giudice, di vieto assoluto di valicare i confini della provincia di Teramo.